Tra i brani che saranno contenuti nell'album, quello che probabilmente più mi diverte è quello che fa il verso all'attuale mondo del mercato musicale che vediamo tutti i giorni nei locali, che si intitola appunto Cover Band ed fa un po' il verso a questo mondo che ha preso il sopravvento, che ha un po', se vogliamo, sostituito il mercato musicale che c'era negli anni 90, comunque è molto molto divertente questo brano, mi piace un sacco.